ragazzi ragazzi buonasera prima di tutto sono andoni conga vediamo come abbiamo messo la telecamera va bene facciamo il video di pallone ragazzi eccomi qua sono pronto iniziamo il video di pallone eccoci stasera stasera cielo sereno non piove è notte e iniziamo con i palleggi palleggio 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 mamma chi è dammi l'imbroglia facciamo il video di pallone come palleggio palleggio ragazzi questo è un video di pallone ed è bello da guardare sapete perché noi ci stiamo palleggio palleggio fermati sto pallone del caspita ragazzi i nostri video di pallone sono emozionati con questi temi colorati li avete visti e vi piacciono eh palleggio ragazzi il video di pallone è bellissimo per dire un palleggio palleggio mi mi fa fatemi già se lo stupido lo sai che con me non puoi competere palleggio 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 ma chi è domenico cantelmo facciamo il video di pallone palleggio 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 mamma chi è davide imbroglia ragazzi vi piace il video di pallone palleggio palleggio bellissimo sto facendo delle bellissime film fermati sto pallonzo di merda se scappa da bricida siamo inguaiati palleggio 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 bello eh vi piace il video di pallone si allora rispondete vi piace eh bellissimi questi tele colorati che si muovono vedete palleggio ragazzi il video che bello da guardare perché noi lo facciamo e vi piace palleggio fermati bravo mamma mia chi è Anthony Gonga sa calibrare i palleggi 1 2 3 4 mamma chi è domenico cantelmo e davide imbroglia ragazzi mi piacciono i palleggio palleggio ragazzi il video eccezionale è calibrato da Anthony Conca che fa il video di pallone e cerca i cani i gatti i topi i sushi sono dei morti di pane anticheppesi cioè handicappati cioè handicappati palleggio c'è una cagnola 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 è piaciuto? si o no? si o no? rispondete se vi è piaciuto? ah no eh? rispondete vi piace questo video di pallone? eh? sì eh? lo sapevo che vi piaceva infatti lo sto facendo pallone si è messo qua sopra per i teli colorati che luccicano con le luci che abbiamo acceso il marrone il blu e l'arancione il giallo il grigio e il verde vi piace il video eh? scommetta proprio di sì nel caso andiamo a vedere se c'è il gattino rosso il gattino rosso che si dice il gattino rosso? il gattino nero e bianco qua sotto ma la furia del gatto se ne è scappato eccolo qui a dove scappi? hai visto che è dal sopra? oh bello ardalamo se ne fui là dentro quella bestia di gatto lo sapevo che se ne è fiuto là dentro